Benvenuti a Creazione nel ventunesimo secolo. Siamo fortemente incoraggiati da tutte le vostre cartoline, lettere e riconoscimenti che riceviamo da voi, che state seguendo il nostro programma. Solo poche ore fa ho parlato con Paul Crouch, che ci ha comunicato di quanto la direzione si è incoraggiata da tutte le lettere che sono giunte dall'Europa. Sono profondamente compiaciuto. Questi programmi sono trasmessi in tutto il mondo e spero che continuerete a scriverci. Fate sapere alla TBNE che questo è il tipo di trasmissione che desiderate vedere e che grazie a questo programma vi sentite arricchiti nella vostra vita e incoraggiati nella causa della verità sul creazionismo biblico e scientifico. Il programma di oggi potrebbe salvare la vostra vita. Non cambiate canale. Avete bisogno di guardare questa puntata. Invitate pure i vostri amici e tutta la vostra famiglia a seguire il programma, perché vi comunicherò delle informazioni che hanno salvato numerose vite. Il titolo del programma odierno è Un serpente a sonagli in paradiso. Ora, questo è un titolo piuttosto insolito, ma sono sicuro che non sarete delusi dalle informazioni che vi darò. I rettili sono una parte importante della creazione. Se avete già visto qualche trasmissione in precedenza, saprete che io mi occupo di scoprire ed effettuare scavi inerenti ai dinosauri. Il Museo dell'Evidenza della Creazione di Glen Rose nel Texas alla fine sarà il depositario di un gran numero di questi dinosauri che stiamo ritrovando in Colorado e in varie parti del mondo e lungo il fiume Polluxi, vicino a Glen Rose nel Texas. I dinosauri sono delle creature molto interessanti. Per generazioni il T-Rex ha affascinato. Guardandolo da molto vicino, scopriamo che è stato progettato in ogni suo particolare. Per esempio, egli possiede la più grande cavità bulbo-olfattiva conosciuta nella scienza biologica. Questo significa che con una maggiore esposizione di superficie, egli era in grado di sentire l'odore di materia in decomposizione anche a grandi distanze. E questo comporta, e molti paleontologi lo riconoscono, che il T-Rex non era il Tyran-Lysart King, cioè il re tiranno delle lucertole, come il suo stesso nome potrebbe suggerire. Ma era un grandissimo spazzino, un bozzago dei campi, se volete, ma con un ruolo di grande importanza nella creazione in origine. Ora, per me i dinosauri sono motivo di gradimento e per questo sono anche direttore di scavi di dinosauri. Desidero che voi siate il primo pubblico su scala mondiale a sapere di una nuova scoperta effettuata sotto i nostri auspici accademici. Si tratta di una nuova pista di impronte di dinosauro nel fiume Polluxy, vicino a Glen Rose, nel Texas. È veramente una pista eccezionale. Le impronte hanno una profondità di circa 15 centimetri e sono specifiche e ben definite, come potete vedere da questa fotografia. Non solo abbiamo potuto annotare gli artigli di questo acrocantosaurus, ma anche i segni degli artigli nel fango mentre l'animale camminava e girovagava in questa zona. A quei tempi il fiume non esisteva, perché queste stratificazioni proseguono verso est per ben 1600 miglia, fino alla costa orientale degli Stati Uniti, per poi proseguire verso le bianche scogliere di Dover e terminare nell'Etiopia del nord. Il contesto in cui quell'animale camminava era il contesto del diluvio universale. Il dinosauro non solo ha lasciato la sua impronta in profondità nel fango, gli artigli e l'intero segno degli artigli mentre proseguiva il suo cammino, ma il materiale sul quale camminava si è solidificato talmente velocemente che si sono perfino preservati i segni dell'increspatura dell'acqua. È proprio una cosa straordinaria. Questa pista di impronte di dinosauri conta ben 136 tracce continue, interrotte da una zona di dilavamento di circa 15 metri per 15 e poi altre 21 tracce. Queste 136 tracce in questa direzione rappresentano la pista di dinosauri più lunga del continente nordamericano. Quindi si tratta di una scoperta di notevole importanza. Come mai è avvenuta solo ora? Perché questa zona si trovava sott'acqua e nel 1971 lo scomparso Mike Turnage scoprì la parte superiore della pista e 21 impronte. Egli guadò fino a questa zona e poté contare oltre 100 impronte di dinosauro mentre si trovava con l'acqua fino al petto. Sentiva le impronte sotto i suoi piedi. Fino a questa estate tutta questa zona era ricoperta d'acqua. Uno dei miei amici, il dottor Don Patton, insieme a un'equip, hanno prosciugato la zona. Tutta questa zona era ricoperta d'acqua. Era una delle poche sacche d'acqua rimaste dalla grande siccità del Texas. Prosciugarono l'acqua e continuarono a scavare lungo la pista. Al mio ritorno da un tour di conferenze, il Museo dell'Evidenza della Creazione ha rilevato tutta la zona e esteso ulteriormente gli scavi di altri 7-8 tracce ricoperte da argilla. Quindi questa pista si chiama Turnpage Patton Trail. Ci sono varie piste di impronte di dinosauri che incrociano il Turnpage Patton Trail. Sia i dinosauri che i rettili sono delle creature straordinarie. Secondo la teoria dell'evoluzione, queste piste sono state fatte in condizioni relativamente normali circa 105 milioni di anni fa. Ma secondo le prove addotte dalla teoria della creazione, esse si sono formate durante il diluvio e talmente rapidamente che è stato perfino possibile registrarne i dettagli. I rettili sono proprio delle creature straordinarie. Sempre seguendo l'evoluzionismo, i rettili si trovano nella normale progressione evoluzionistica sviluppando le loro caratteristiche volta per volta mediante la variazione di mutazione. Ma esaminando i dati scientifici scopriamo che è impossibile che una creatura si evolva in un'altra. Invece è possibile, mediante le variazioni mutanti orizzontali, l'introduzione dei cambiamenti nelle creature. E questo si chiama varietà. È possibile introdurre la varietà mediante l'ibridazione. Si hanno creature della medesima specie. Si possono anche introdurre le varietà nella misura che vi sia una perdita di informazioni a causa di danni di mutazioni. Le mutazioni non accumulano mai informazioni. Ora guardate attentamente. La teoria evoluzionista insegna che i primati, gli scimpanzè, gli oranghi e le scimmie si sono evoluti in primati superiori, cioè l'uomo. Eppure la capacità cranica del primate più grande, lo scimpanzè, è circa un terzo di quella dell'uomo. Ora è impossibile aumentare le informazioni mediante il cambiamento di mutazione. Quella informazione di maggiorazione deve essere programmata fino dalla programmazione originale. Ascoltate con attenzione. Illustri studiosi evoluzionisti hanno analizzato il codice genetico sia dei primati inferiori che dell'uomo e hanno dichiarato le scimmie sono identiche all'uomo nelle informazioni genetiche al 98,4%. Quindi sarebbe relativamente facile che la variazione restante dell'1,6% venisse introdotta nella storia mediante il processo evoluzionista. Ma fermiamoci un istante. Uno dei nostri consulenti, il dottor Barney Maddox, specialista in genetica, ha assemblato tutte le informazioni provenienti dai principali laboratori nel seguente modo. Ciascuno di questi punti di variazione, di variazione mutante, è un punto nucleotide. L'accumulazione di qualunque tre di questi punti risulterebbe letale all'organismo medesimo e ad eventuali discendenti. È un vicolo cieco. Se poi prendiamo quella di differenza dell'1,6% esistente fra la scimmia e l'uomo, questo rappresenta, secondo questo illustre genetico, 48 milioni di differenze nucleotide. E se queste venissero inserite in una scala ascensionale, quell'organismo abortirebbe durante tale processo. È scientificamente impossibile mutare una scimmia in un uomo. Ma è possibile all'uomo comportarsi come le scimmie e andare ancora più in basso del loro stesso dominio. Questo sì che è un reale problema per le persone di tutto il mondo. Cioè il fatto che le persone si comportino in modo inopportuno. Quindi è scientificamente impossibile che una creatura simili delle informazioni superiori e diventi un'altra creatura. E allora i serpenti? I serpenti a sonaglio? I serpenti testa di rame? Nel mondo originale, quello antidiluviano, non ancora compromesso dal diluvio universale, dove Adamo ed Eva vivevano in un paradiso, nella totale armonia con tutti gli organismi viventi. Secondo la teoria della creazione e secondo le prove scoperte attraverso un'investigazione scientifica, il serpente deteneva un ruolo vitale nell'economia e nell'ecosfera degli organismi viventi. La teoria evoluzionista suggerisce che il suo ruolo è distruttivo, mentre in certe istituzioni di ricerca medica il veleno del serpente si è rivelato benefico nella cura del cancro. Il veleno degli scorpioni è stato utilizzato nella cura dei tumori al cervello. L'artrite è stata curata mediante punture di api e vespe. Qualcosa succede. Nel nostro mondo ormai compromesso dalle condizioni sviluppatesi dopo il diluvio universale, l'utilizzo di questi animali è meno specifico. Nel mondo originale essi si trovavano in un paradiso. Lasciate che brevemente vi descriva qualcosa di questo paradiso. Il mondo di oggi è la rappresentazione di ciò che il mondo era in origine, con la struttura interna della Terra organizzata come un reattore nucleare controllato, avvolto da uno strato di asfalto. E questo asfalto può essere estratto da tutta la Terra. Durante una delle mie conferenze a Trinidad scoprì l'esistenza di un lago di asfalto che si auto rinnovava e si estendeva sotto lo strato granitico. Mi fu riferito che molte strade e autostrade europee erano state pavimentate con l'asfalto proveniente da Trinidad. Parlando dell'Europa, apprezziamo grandemente tutte le lettere che ci state mandando da oltre oceano. Siamo felici di ricevere posta che proviene da tutte le parti del mondo. Alla TBNE hanno bisogno di sapere se gradite queste trasmissioni. Se non ci scrivete non hanno alcuna idea di quello che succede o quale possa essere la risposta. Quindi vi invito a scrivere a creazione nel XXI secolo, via Pascoli 103-21050, Marnate, Varese. O se preferite visitare il sito internet www.tbn.org comunicando il vostro apprezzamento per queste trasmissioni. Ora rivediamo com'era la programmazione del mondo in origine prima del diluvio avvenuto ai tempi di Noè, cioè dalla creazione fino al diluvio. La struttura interna era perfettamente bilanciata. L'asfalto di cui stavo parlando pochi minuti fa, che era delimitato in una zona di Trinidad, è stato utilizzato per asfaltare molte strade nel continente europeo, ma ci sono anche altre parti del mondo dove l'asfalto è presente. Esso si trova sotto la struttura granitica della Terra. Le capacità dell'asfalto sono veramente notevoli. L'asfalto trattiene l'energia termica, trattiene il calore. Nel Texas, dove vivo io, durante il periodo invernale, dopo una notte o durante una notte un po' frizzante, molto spesso, mentre si guida, ci si può imbattere in serpenti assonagli. Perché? Perché sono attratti dal calore, dall'energia termica che viene trattenuta dall'asfalto di cui le strade sono ricoperte. Questo aveva uno scopo preciso nel disegno creativo, in quanto moderava il calore, riscaldando lentamente l'acqua, che poi circolava nel granito, fino a raggiungere la superficie terrestre e veniva utilizzata per la vegetazione abbondante. Tutto faceva parte di un preciso disegno e scopo. Ma torniamo ai serpenti. Esistono prove paleontologiche che alcuni serpenti, in un dato periodo storico, avessero delle appendici. Questo perché in certi fossili di serpente sono stati scoperti dei noduli che rappresentavano quelle appendici, pur essendo essi veramente dei serpenti. Secondo il racconto biblico, il serpente camminava a ritto e il serpente era in grado di comunicare con Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Questo è possibile? Ora rammentate. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi. Egli aveva un dominio tutto speciale, dai dinosauri, dai mammiferi, dagli uccelli, ai pesci. Il serpente si trovava in un dominio speciale e aveva la capacità di comunicare con Adamo ed Eva. Ora, qualcuno potrebbe considerare questo come assurdo, ma quando si approfondisce la cosa, si esaminano i dati biblici, allora si scopre che molte creature possono comunicare con i loro proprietari e amici. Per esempio, i cani e i gatti sono in grado di comunicare con le persone in un modo o nell'altro e in modo molto speciale con i bambini. Gli uccelli sono in grado di comunicare e in natura ve ne sono altre ancora. Un altro esempio, vi sono uccelli nel Congo che addirittura conducono l'uomo fino al nido delle api e dopo che l'uomo lo ha aperto vanno a prendere il miele che è rimasto. Questo è assolutamente straordinario. Essi comunicano e conducono l'uomo fino al nido delle api. Ebbene, il comunicare è possibile tra gli animali dei campi, ma facciamo ritorno ai nostri serpenti. La scrittura indica chiaramente che il serpente era l'animale più astuto di tutti gli animali dei campi. Esso aveva un progetto particolare e unico. Qui stiamo facendo della ricerca. Abbiamo ricostruito una biosfera. Questo è avvenuto cinque anni fa e in questi cinque anni abbiamo raccolto dati che ho presentato a un gruppo di studenti prima della prima biosfera. Questo è il prototipo della prima atmosfera iperbarica della Terra. All'interno di questa biosfera abbiamo simulato le condizioni del mondo originale, per esempio il fatto che ci fosse un campo magnetico maggiore. Vedete l'oscilloscopio sopra il cilindro della biosfera? È qui che monitoriamo la forza del campo. Nel mondo prima del diluvio la pressione atmosferica era circa il doppio di quella attuale. Nel mondo prima del diluvio i livelli di ossigeno e monossido di carbonio erano più alti. Nel mondo prima del diluvio, per qualche ragione fisica specifica, c'era una predominanza di luce rosa. Quello è il caso nella biosfera. E c'era l'eliminazione delle radiazioni ultraviolette, in quanto la volta celeste intorno alla Terra avrebbe eliminato le radiazioni ultraviolette. E noi abbiamo simulato tali condizioni. Ora, quali sono i risultati? Eccomi qui insieme al dottor Robert Copperfield, lo specialista che tiene in mano un serpente testa di rame. Anch'io una volta l'ho fatto, ma normalmente assegno questo compito ai miei collaboratori. Ed essendo il direttore del progetto, ho anche il privilegio di assegnare quelle responsabilità. E normalmente è quello che faccio. Ma per motivi di fotografia, una volta ho tenuto in mano la fiala. Normalmente sono io che riprendo le documentazioni. Qui vediamo da vicino quell'esperimento. Questo è un serpente testa di rame. Ma ancora più interessante è il serpente a sonagli che l'Università dello Stato dell'Oklahoma ha pubblicato in una rivista medico-scientifica. Voglio dire chiaramente che non stiamo facendo ricerche mediche. Non siamo autorizzati nel nostro museo a condurre ricerche mediche. Anche se fra i nostri collaboratori vi sono parecchi medici che fungono da consulenti e conducono ricerche a livello privato e in secondo tempo ci forniscono le informazioni. Voglio essere assolutamente chiaro che in questi programmi non do alcun consiglio medico. Sto solo riportando l'esperimento che è stato condotto dall'Università dello Stato dell'Oklahoma e che è stato pubblicato sulla letteratura scientifica. Alcune persone del loro personale vennero da noi al museo e ci riportarono della scoperta fatta. Essi scoprirono che in caso di morso di serpente a sonagli o serpente testa di rame o puntura di vedova nera o altri ragni velenosi, ma hanno anche scoperto che può funzionare con vari serpenti o qualsiasi creatura velenosa del mondo, si prende una pistola utilizzata per stordire gli animali. Si tratta di corrente elettromagnetica continua. Spero che mi state sentendo bene. Viva! Ora, se io continuo a fare così, brucerò la pistola. Ma se la usate sulla pelle, la pistola non si brucerà, perché la corrente passerà attraverso la pelle. Non sentirete neanche la scintilla, ma di fatto è come se mi sottoponessi a un piccolo elettroshock. Se fossi stato morso o punto sul braccio da un serpente a sonagli o da qualsiasi altro tipo di creatura velenosa, secondo lo studio condotto dall'Università dello Stato dell'Oklahoma, tutto quello che dovrei fare è ottenere un buon contatto con gli elettrodi e farmi un piccolo elettroshock. Proprio così. La prima volta che lo feci esitai molto. Non che faccia male, ma è più la paura che il male in sé. Ma lo puoi sentire. Se io dovessi puntarmela da solo e contare fino a nove o dieci, arriverei anche a perdere conoscenza. Ma il rapporto dell'Università dichiara che hanno scoperto che puoi anche fare due o tre scariche e continuare tranquillamente a fare le tue cose. Comunque vi raccomando di interpellare un medico per ogni evenienza. In macchina ho sempre a disposizione una di queste pistole. Ho personalmente guidato tre spedizioni scientifiche nella giungla di Papua, Nuova Guinea, con permesso speciale. In ogni viaggio sia io che i miei collaboratori abbiamo portato con noi la pistola. Ricordo che stavo percorrendo un angusto sentiero in mezzo alla giungla, quando uscì dai cespugli un enorme calabrone. Senza esagerare, era lungo così. E probabilmente, proprio perché stavo sudando, mi è venuto dritto addosso. Mi appunto proprio qui. Il dolore era così forte che praticamente non sentivo più il braccio. A quel punto ho preso la pistola dalla cintura e ho effettuato tre scariche consecutive. E non ho avuto alcun problema. Nessuno si è accorto che ero stato appunto da un calabrone. E come possiamo applicarlo nel caso cipunga un serpente a sonagli? I serpenti a sonagli sono creature estremamente sofisticate. Probabilmente i serpenti a sonagli sono i più sofisticati rettili di tutta la Terra. Praticamente sono degli assistenti medici programmati come una vaccinazione vivente. Lasciate che ve lo spieghi meglio. Se vi avvicinate a una zona dove è rintanato un serpente a sonagli, egli sentirà la vostra presenza molto prima che voi vi accorgerete di lui. Si riposa con la mascella spalancata appoggiata a terra o sul suo stesso corpo. È in grado di percepire le vibrazioni. Una volta captate le vibrazioni che ha filtrato, è simile a uno speciale filtro elettromagnetico, egli riconosce ciò che è normale, ciò che è un coniglio o un cervo o un cinghiale e quindi sa anche riconoscere l'essere umano. Sa che siete vicino a causa delle vibrazioni. Poi inizia a muovere la sua lingua. Quando muove la lingua, la arrotola al punto che da biforcuta diventa un triangolo. Così egli è in grado di raccogliere informazioni dal vostro corpo che emana tossine, perché ognuno di noi elimina tossine e segnali erranti e discordanti. Attraverso il movimento della lingua, lui raccoglie queste informazioni e riesce a individuare la direzione dalla quale uno proviene. Secondo alcune riviste scientifiche, man mano che voi vi avvicinate, attraverso delle ghiandole ultrasensibili simili a quelle di una vipera, è in grado di captare fino a un millesimo di un grado di variazione di temperatura. Avvicinandolo, è in grado di vedere la sagoma del vostro corpo dalle variazioni termiche. Lui continua a muovere la sua lingua, ma non semplicemente in aria. Fa scorrere la lingua avanti e indietro nella sua bocca, passando davanti alla ghiandola detta di Jacobson, che si trova nel palato. Si tratta di una ghiandola altamente sofisticata. Quella ghiandola determina il livello tossico di quello che lui percepisce dall'aria. Immediatamente il suo cervello dice, quello lì ha bisogno di una vaccinazione. Se gli mettete davanti un bastone che assomiglia ha una mano, lui non la toccherà. Ma se gli mettete davanti una mano, allora la toccherà. Prove effettuate hanno dimostrato che quando colpisce con i denti, che in realtà sono degli aghi ipodermici collocati nel suo cervello, li estende e colpisce il centro geometrico di un punto caldo. La scienza medica ha scoperto che quando c'è un'infezione, il cancro, quello è un punto caldo del vostro corpo ed è parallelo alla procedura di vaccinazione. Egli non ha scelta, è stato creato per vaccinare. Ora, nel mondo odierno, con la perdita di energia elettromagnetica e la perdita di ossigeno, la vaccinazione potrebbe uccidere. E il paradiso? Abbiamo collocato dei serpenti nella nostra biosfera. Un laboratorio indipendente ha analizzato il veleno proveniente dal gruppo controllato e dal gruppo biosferico. Rimasero grandemente sorpresi che avevamo completamente mutato la struttura del veleno del serpente. Questo è Cutting Edge Technology. Avete mai visto del veleno di serpente al microscopio elettronico? È ruvido come gli spaghetti, ma il veleno del serpente dopo una permanenza di alcune settimane nella nostra biosfera si altera e ha la struttura di un favo di miele. Essenzialmente abbiamo rimosso questa ruvidezza che è il fattore tossico. Non stiamo dicendo che abbiamo fatto un siero non velenoso. Quello che stiamo dicendo è che teoricamente è ciò che sembra che stiamo facendo. Quindi originalmente nel paradiso, simulando il mondo antecedente, il diluvio, si ha un diverso composto. Analisi interdipendenti hanno dimostrato che abbiamo reso più forti alcune delle strutture proteiche. Alcune le abbiamo diminuite e altre abbiamo eliminato una parte della struttura proteica. In altre parole sembrerebbe che questa Cutting Off tecnologia potrebbe introdurre una nuova ondata di benefici per la salute dell'uomo del ventunesimo secolo. Tutto questo deriva dal modello creazionistico. Abbiamo dimostrato che nel paradiso il serpente aveva uno scopo che non era nocivo. Scriveteci facendoci sapere il vostro apprezzamento per le nostre trasmissioni a creazione nel ventunesimo secolo.